Carissimi amici di Spezia TV, oggi ci troviamo qui a Bocca di Marmo per una scelta, perché è una giornata particolare, bellissima giornata, siamo vicino a un blocco di marmo, a fianco a me c'è Alex Bordigoni che è un corografico famoso qui dalla zona, ma anche a livello italiano, che sta organizzando un bellissimo evento a Carrara. Facciamo di dire da lui cos'è questo evento, cosa rappresenta per lui e per far venire più gente, giusto, lo pubblicizziamo bene, noi di Spezia TV ci saremo, racconticelo un po' allora, dai. Allora, ciao Gianpiersi, benissimo, come hai detto sarà un evento particolare, si terrà il 3 giugno nel bacino delle cave di Carrara a fanti iscritti, abbiamo voluto fare questo evento, ci tengo a precisare, a ingresso gratuito, quindi potranno partecipare tutti, sarà un evento particolare che si chiama Il pianoforte scolpisce l'anima, nasce dalla collaborazione con Pape Gurioli che è uno tra i primi 10 pianisti al mondo, è nato questo progetto due anni fa e quest'anno l'abbiamo voluto ampliare raccontando la storia di Michelangelo nei luoghi di fanti iscritti, nei luoghi di Carrara dove veniva personalmente a scegliere i suoi mani, quindi abbiamo unito piano, danza e quest'anno danza aerea e lirica e niente, sarà una cosa, non vi voglio svelare più di tanto. Però è una cosa molto bella, io ve lo assicuro perché da come me l'ha descritta, però io quello che dico dovete venire quella sera lì, giusto quando allora, ricordiamolo bene. Il 3 giugno dalle 19.30 nel piazzale di fanti iscritti a Carrara, troverete poi tutto sulla pagina Il Ballerino del Marmo oppure la pagina Marble Tour che è uno degli organizzatori e niente, non vi voglio svelare più di tanto, ci saranno diversi effetti speciali, giochi di luce, poi comunque nello splendido scenario della cava nell'orario del tramonto. Ecco, ringraziamo gli sponsor che hanno contribuito a questa iniziativa. Ringrazio gli sponsor che sono Marble Tour, Cava Museo, Torart che sono i primi 3 sponsor che ci hanno dato fiducia, poi ci sono inseriti successivamente il ristorante Extra che sarà la nostra base. Poi abbiamo più 39, Franchi Umberto Marmi e tanti altri sponsor che citeremo poi negli articoli e sui vari post nei social. Allora, carissimi amici, venite quella sera e noi lo pubblicizzeremo, ci saremo e faremo un grande successo. Ciao! Ciao!